vai con lo spiegato no in ordine ah spiegato andiamo di là guarda è tutto perfettamente in ordine guarda con una maglietta e i pantaloni vedi non è in ordine e le tavatte una qua e una là in fondo vado a fare l'intro fuori sul balcone da solo con nessuno che mi disturba look at the view benvenuti ragazzi in questo nuovo video siamo ancora in montagna seconda volta già che iniziano in montagna e anche questa volta faremo un video di sci siccome è richiesto ed è stato apprezzato il primo video di sci anche se il video non è ancora uscito siamo venuti in montagna per passare il capodanno e da sciare prima volta in trentino di preciso adesso siamo alla Ion oggi andremo a sciare a Cesaram al Pedisiusi come siamo stati tanto bravi e gentili gli schipass gratis almeno per alboretto però intanto quanti sordi no bastardo lo faccio per te Toto sigla Siamo aziusi non siamo siamo a compazzo no no 6 6 7 non è Italia non è Italia a tra l'altro abbiamo avuto un culo gigante che in questi giorni tutti i giorni danno meteo così ieri sono andato alla ricerca dello snow park perché in realtà qui non era semplicissimo noi siamo collocati con la casa vicino a Ortisei però lo snow park è da tutt'altra parte quindi per trovarlo ieri sono andato io un po' in giro da solo a cercarlo e quindi vabbè ho taggato dei ragazzi che girano sempre qua allo snow park che mi hanno risposto e oggi in teoria ci becchiamo con loro che spaccano sugli sci loro quindi si prospetta una bella giornata con alboretto ciao all'indietro oh Scendo sempre, davanti o dietro? Non riesco a bloccarmi lì. Non ho idea di come siano vestiti, come non li ho mai incontrati prima. Quindi li ho scritto su Instagram. Però mi sa che il telefono non lo guardano molto in questo momento. Dovrò beccarli in giro per il park. Ah, c'è gente che tricca di brutto là dietro. Quindi immagino che sia loro. Però lì è ralzo. Boh, lo seguo e glielo chiedo giù. Siete Leonardo? Non so. No? Vengono. Ah, ecco lui. Leonardo? No. No? Neanche. E chi è Leonardo? Donny? Arriva. Irriconoscibile. Quella con la giacca grigia e bastoni grandi. Leo? Ciao. Sono Torquato. Ho visto. Com'è? Bene, dai. Voi? Bene, bene. È più difficile riconoscervi in giro perché non so come ti devi schiedi. E posso seguirvi un po'? Quanto vuoi. Hai già visto gli altri? Sì, e... Ho chiesto a loro che mi hanno detto che eri te. Quella con la giacca rossa è Phil. Ah, ecco. Piacere, Filippo. Non t'avevo neanche visto. Qua non è facile prenderlo dritto come ti c'è. Cazzo faccio... Ogni volta... Ma poi cado sempre davanti. Eh, devi proprio puntare alla fine. Sì. Ah, mi ha fatto uno! Sì, proveremo questo qua. Morbido con le cazzo di gambe bisogna stare. Io non sono morbido con le gambe. Oh, uno giusto cazzo. Posso farvi un giro dove vi seguo? Era figo, eh? Da dietro è sempre fighissimo vedere la gente che salta così. Manco! Oh, 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 oh! No, 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 no Ritto Neanche una curva Esatto Pro bello cazzo Sto migliorando secondo me un pochino sui rail Un po' mi cargo sempre addosso a soglioni in generale Però lo stai facendo Che è una cosa più importante Mi sono detto non star sulle labili Vai arrivare la costola Era quasi tutto giusto Cazzo lungo questo Allora il problema è non saper se cacciare i sette sull'ultimo Ma si dai Prego Mi faccia vedere lei Oggi lezione con la Bea Che è la seconda o terza volta che mi ha seguito gli sci Sono riuscito a convincerla a riprovare Non voleva Però se la sta cavando bene dai Brava Alto sempre bene Per adesso Tenendo conto che tre piste fa stavi andando a spazzaneve Sono baciato Albi Diabolic Vi rubo il cuore Ricordatevi di mettere mi piace a questo video Iscrivervi anche Dai fai vedere la tua faccia Così sembri un po' censored Mostrai tuoi nudità Albi Oh my god Quanto è grosso Oggi senza racchette Proviamo Abbiamo avuto un piccolo inconveniente Facci vedere A rocca puttana Beatrice Minch è profondissimo Dai Toccio non me lo dire Minch con le tira Che culo Si è fatta la fiesta Si è fatta la fiesta la bea Bastata Si è fatta la fiesta la bea Si è fatta la fiesta la bea Si è fatta la passaggio a casa Allora la bea l'hanno portata in infermeria E poi la porterà in ospedale a metter i punti Quindi gli stiamo portando giù Sci Casco Al noleggio Devo lasciar che ti fa Ok Faccio La fatta E poi è morto così subito Adesso vi spiego Perché prima avevo quella faccia Eravamo alla bea che si è tagliata Poi noi, vabbè, la bea ci ha detto di continuare a sciare Abbiamo fatto qualche pista alla fine Però nel frattempo siamo andati a ridare gli sci Come avete visto Bene, siamo tornati a sciare Poi scendiamo con l'ovetto Arriviamo alla macchina Metto la mano in tasca C'è la tasca aperta E non c'è la chiave della macchina Però non ho perso le earpods Non le ho perse Potevo perdere le earpods e non perdere la chiave della macchina Vabbè, è stato il fatto che ho provato a risalire Ho ricercato Tutto, ma niente Abbiamo preso un taxi Per tornare qua al nostro Al nostro appartamento Siamo arrivati qui Abbiamo chiesto alla signora se aveva Le seconde chiavi Perché in teoria l'altro giorno era entrata in camera Quindi ce l'aveva E invece ha detto che non le trova Non trova più le seconde chiavi del nostro appartamento Adesso siamo qua a aspettare Al B We're sorry The number you have reached Is not in service Please check the number Or try your call again Sì, come ovvio È presente quello che ci avevo in mente che non dovevo fare? Eh, l'ho fatto Vi facciamo Alla prossima Alla prossima Sono arrivato in questo snow park Semplicemente con l'obiettivo di divertirmi Però con costanza di edizione Sono riuscito ad imparare un sacco di cose nuove Indipendentemente dagli imprevisti che mi sono capitati Grazie Bea Per rendermi più bello Facciamo questa auto in macchina Non sto filmando io Per tutti gli hater della situazione Questa vacanza è stata bella Però con un sacco di imprevisti Direi Vabbè, stava andando tutto bene Fino a capodanno Dopo che l'abbiasse fatta male Però vabbè, alla fine gli ho messo i punti Gli è nato il tutore Fai vedere cosa c'è qua Questo qua ha un bel tutore Noi siamo tornati giù Abbiamo perso le chiavi della macchina Cioè io ho perso le chiavi della macchina Perché ce le avevo io in tasca E avevamo tra l'altro in macchina tutto Cioè non aveva niente fuori dalla macchina Quindi sono dovute venire i miei A portarmi le chiavi di scorta Da Monza Poi al Boreto c'è un'unghia nera Perché c'è lo scarpone troppo piccolo Detto questo Però la settimana è stata positiva Dal punto di vista dello sci Perché sono riuscito a farmi Proprio una settimana completa di sci Che era anni che non riuscivo a sciare così tanto Abbiamo fatto una settimana in park Io al Boreto Solo park E infatti Io ho imparato un sacco di trick nuovi Principalmente per i rail Come avete visto Siccome i salti grossi erano ancora chiusi L'obiettivo prossimo sarà invece imparare proprio a saltare su salti grossi Anche in sci Perché bisogna È un dovere Non dimenticate di iscrivervi Lasciate un like per il video E ci vediamo A un prossimo video